Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi! Alex posso dormire qui un po' con te? Ok! Come vai oggi? Cosa va oggi? Oggi è arrivato lo squalo... Squalo? Squalo? Che particolare? È arrivato un squalo! Come ti chiami? Mr Squalo! Mr Squalo! Apri facciamo vedere cosa abbiamo noi! Sempre ragazzi un prodotto di Hot Wheels! Hot Wheels! Non so come si chiama ancora! Wow! Un squalo! Oh ma guarda che lingua c'è la squalo! Hai visto? Come si fa qui? Qualcosa qui si tiene no? No! Vedi che c'è un gancho? Si! Qualcosa c'è questo gancho? Qua guarda che ci sono le poster! Secondo me deve tenere qualcosa buco! Vabbè dai! Proviamo come si gioca! Ah ok! E anche questo! Vedete ragazzi? O volete vedere più vicino tutto? Facciamo prima... Ho montato! Facciamo vedere prima più vicino! Ecco ragazzi la nostra pista tutta qua! Qui c'è un carcere per le macchine! Si Ale questo è un carcere? Si! Buona galera! Ecco il nostro squalo! C'è strada che scende giù! No! Dopo di qua spara! Spara qua! Si! Perché qua entra una macchina e da qua spara una macchina! Si! Così la macchina può scendere e qua c'è un altro squalo! Un altro squalo! Ah qui devi aprirsi! Le porte! Ok! Ecco vedete tutta la pista ragazzi! Va così la macchina! Mi piace? Si! Questa è piccola! Non è grande di Hot Wheels! Però... Alex tu devi... Ah qui c'è anche un ascensore! Vedete? Scarichi! E vai giù! Oh! Le serpenti! Le serpenti cosa fanno? Eh! No! Le draghi! Si ma questa gira la macchina! Guardate le squali qua! Le squali che stanno montando! Si si vedono qui dentro sotto l'acqua! Si girano le squali! Allora fai vedere le regole Ale! Le regole sono così! Che la è... La partenza è qua! Dove? Si! La macchinina va avanti avanti e dopo scende nell'acqua! E dopo quando arriva qua all'ottombo si girano i serpenti che sono nell'acqua! E va avanti! E qua non so che cos'è però la ferma! Ah! E c'è un tsunami! E c'è una coda bianca! E andiamo avanti! La macchina va e c'è l'ascensore! Deve andare avanti! Se non va avanti si riscontra! No! Qualcosa ti sbaglia Ale! Ecco ragazzi! Alex! Secondo me qui c'è qualcosa non è così! Qui abbiamo un pulsantino! Si! Per fare partire anche una macchina di qua! Anche possiamo fare lo start! E vedi che squallo! C'ha questa linguetta! Che noi possiamo vedi attaccare così! Ah! Ho capito! Si! Che la macchina passa! Si! Fai passare la macchina! Fai vedere! La ferrari! Si! La ferrari! Quindi vediamo tutta la pista! Passa qua! Si! Alla serpente! Si gira! Passa! E qua c'è lo start! Qui si ferma! Si! Si può fare start! Prova! Spingere dai! Fai! Ecco! Capa volta! Va bene! Si! Prendiamo l'ascensore! Vedete ragazzi! Facciamo partire Ale! No! 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 Abbiamo perso una macchina! Dai! Proviamo con un'altra! Hai caricato? Prova! No! Lo nostro squallo ha preso la botta! No! Proviamo spingere uno di qua! No! Si incostrata un'altra! Proviamo! No! Ma perché cosi? Ragazzi, dobbiamo prendere qualcosa di pesante noi! perché dobbiamo salvare le macchine no aiuta aiuta ecco una andata no Alex dobbiamo salvare se no squalo mangi no ho preso mille macchine Alex tu hai fatto un casino guardate la nostra pista piena di macchine adesso il nostro squalo mangerà tutto Alex come possiamo noi salvare? non lo sai? le macchine da salvaggio no questo è proprio il siniva perché questa è incastrata adesso prova spingi è questa? è quale vuoi? sì da qua prova lascia così proviamo con questa una dai due spingi tutti spingi due spingi con le mani dai usciamo 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 facciamo tirimoto 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 ecco ci siamo ci siamo salvati da squalo sì è una macchina si è salvata da sola da sola questa spara di nuovo prova a sparare prendi una macchina più leggera dai spara allora parate sparo io posso uno due tre via no non ci è riuscito riproviamo a sparare di nuovo metti la macchina vado uno due tre no proviamo così carichiamo lo squalo carichiamo vediamo cosa successe se facciamo così no Ale aspetta io vorrei qui provare carichiamo mettiamo macchina sportiva qua pesantissima vediamo uno due tre no niente ma perché ha fatto questo può darsi che dobbiamo mettere una molla più forte qua lo sai no ragazzi avete visto due macchine stanno in galera due macchine in galera di squalo chiudiamo qua tutto dopo lui le mangia sì intanto abbiamo fatto vedere tutti pista a tutti sì ragazzi avete visto la pista avete visto Alex eccolo qua avete visto me anche io sono qua salutiamoli sì va bene ragazzi noi vi salutiamo questo è stato Hot Wheels squalo un gioco vecchio c'ha circa una decina di anni questo qua così non troverete più però qui dentro ci sono anche le pili e squalo anche parla tu dici non mi avete mangiato però io ho mangiato voi però non so se questo è un gioco italiano intanto noi lo prepariamo mettiamo le pili vediamo se funziona ancora o no e quali funzioni intanto noi vi salutiamo ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.